Il Clean Day 2023, il giorno della pulizia, organizzato dall'Associazione Masegna Nisioetti, ha donato nuovo splendore al campiello dei squelini, tra Cafoscari e San Barnaba. Ad affiancare i volontari dell'Associazione, oramai esperti nel ripulire gli imbrattamenti che troppo spesso deturpano Venezia, anche tanti studenti, passanti che si sono aggiunti all'ultimo minuto, esponenti della società civile e politica cittadina, dal presidente di Venezia.com Matteo Secchi, alla consigliera comunale di Venezia e tua Cecilia Tonon. Ripresi da Filippa Patì, sempre sensibile nel documentare la vita cittadina, i volontari hanno cancellato scritte spray, rimosso adesivi, ripitturato pareti, confermando un percorso virtuoso condiviso con la sovrintendenza, che è un esempio di impegno civile attivo, oltre che un atto d'amore, nei confronti della propria città.